e non posso vabbè ho paura di spendere soldi a che cos'è sto caos schifo che cos'è su fondo salve genti mondi questo nome sei da nex e oggi siamo qui in compagnia d'italia fico su cubecraft per fare le tower defense dobbiamo vincerne una ne abbiamo appena vinta una in modo tristissimo quindi stavolta ne vinceremo in modo pro eh sei d'accordo come sempre perfetto poi guarda il video e così vedi il mio bellissimo mantello con una n molto tonda oppure guardati una dei video aspetta ieri ho caricato un video di fornette oggi ho fatto una live su minecraft si quella si vede oggi non c'è oggi dove hackerava sul server di lion sul server di lion si perché se perché anche se mi vanno ma non me ne frega niente esiste un server di lion ah si purtroppo non ci capisco niente quel tizio che urla si quel tizio pelato che urla esatto direi che hai fatto una dimostrazione più che adatta che squadra sono non lo so ma neanche io allora io ho mandato gli zombie quindi ok sono andati da loro quindi noi siamo di ora non mi hanno mai niente vabbè importante è menarli forti aspetta fammi mettere un po di dio va non ci sono tutti vabbè muoiono subito i zombie fanno schifo anche se i datori muoiono sti qua si muoiono a caso che è che continua a tirare di palle di fuoco l'utilità in ciò dov'è beh mi fa tanto danno sì ma è uno spreco di soldi assurdo sì è vero io ho messo due torri esplosive a caso tanto muoiono da soli sti schifo di zoni spawnano con 10 di vita e poi esplodono e spawnano gli arrivano esplosioni in faccia rimangono a 5 e poi muoiono oh no questi sono al 3 ma che chiama come fanno ad avere gli zombie al 3 aspetta che mi devo gridare i soldi oh ah è vero che si può com'è che si fa i soldi si eh nel castle bazaar quella lì goldmine in alto con l'esperienza si fa eh vabbè quanto posso no non è vero rip sembrava di avere tanti soldi eh vabbè quanto poterip and was in this moment in this moment eh lo so faceva schifo voglio mettere una poison tower dove cacchio è? ragni ah ragno ramazzaragna oh no sono già potentissimi ma sono due che schifo ah qualcuno di intelligente c'è sta mettendo un sacco di torri di fuoco così danno fuoco ai ragnetti e esplodono subito fatto 40 critica le hanno comunque un bordetto di vita sti cosi si ma quelli li hanno un casino di vita un bordello assurdo di vita quelli no che ha leftato no siamo in 3 contro 4 dai bello schifo non è giusto ma perchè leftano che problemi avete? cioè non ce n'è bisogno cioè niente qualcosa mi dice che stai laggando no sto stando zitto perchè stavo leggendo l'effetto della torre ma che ca- oh questo angolo qua fa schifo come l'hanno fatto? scroto 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 guarda che belle torri che ho messo messo una ghiaccia una veleno la veleno è fortissima i mort diga loro hanno messo mano una torre sono bravi loro oh no hanno messo una necromancer cosa fa? e l'hai detto come dire no passa Non vinceremo mai, poi alla fine non sapevo mai cosa facevo Credo sia quella che spawna lo scroto Ah, no, è quello che spawna i golem Vabbè, è abbastanza forte Perché sembra... No, ne hanno messe ben due Guarda, sembrano enormi e potentissime Ecco perché mi ha fatto paura Ma chi è l'altra squadra? Sì, guarda, sembrano enormi e potentissime Sono queste? Sì Una è livello 3 Sì, sono enormi e potentissime Spawna i golem I golem sono tondi E come si chiamano? Necromancer Di nome di schifo Ma, ok Ma... Ma, allora tu metti torri Ho capito una cosa Devi mettere più torri diverse possibili Mai tanti uguali, un sacco di torri diverse Boom Ah, no, non puoi Non hai messo un cassa Occhio a quelle che occupano 4, eh Tipo questa Dai, mi sono il posto più sbagliato del mondo Sì, lo so E ne metto un'altra quava Eccola Ne posso mettere un'altra Com'è, come te la devo mettere? Metti da tipo qua in fondo In fondo, in fondo Qua in questi posti qua da 5x5 Lì Sì, lì E ne metto un'altra a fianco Gigi Quanti soldi hai, Cristo? E ne metto un'altra a fianco Oh, calmo Metti poi le Zeus in giro Almeno tre Zeus Che quelle sono potentissime E Budda? Budda... Cosa c'entra? È Zeus, è un dio E Budda è un dio Oddio Gli zombie all'86 Hanno del metto di diamante Ma fanno schifo comunque Fanno schifo perché l'hanno fatto Sono scemi Come sprecare i soldi Il golem Passato traverso tutti Non l'ho mai preso uno I golem fanno schifo Ok, perfetto Mi sono upgradeato i soldi Adesso sono potentissimo Coq I mammo Coq Coq Tenevano i ragni in cui Hai nominato il pelino in inglese Ma non te ne sei neanche reso conto L'ho fatto apposta L'ho fatto apposta Coq Ma perché? Quanto costa? Allora Shoot, fire, arrow Sono mandato uno zombie Non so perché Oh figo ok Adesso posso Allora Tante frene Ok, tante flicce Shit Stai spedendo la voce Come a Mark Big regioni Ho mandato tanti scheletri Oh, gli scheletri sono P Upgradateli Vedi, sono potenti Come si fa che era? Eh, vai quando Per, come fai come per mandare le truppe vai sulla nether star, sugli scheletri E fai tutta quella bella roba Io ho mandato 25 xp, eh va bene Io ho mandato dei bigragnetti al 2 I bigragnetta sono potenti Ah, aspetta, aspetta Aspetta Cioè, se ne muore uno mi fa 30 xp Sì Quindi se ne muoiono 12 mi fa? Tanto Ok Trecent... No Sì 360 No, sì È vero Sono arrivato in fondissimo Comunque prima abbiamo vinto grazie agli scheletri Per un attimo avevo 777 di soldi Quell'attimo è stato felice Sì 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 Ok Io direi che i biggman scheletri ragni Eh, vabbè E io ragni anche io li ho mandati i ragni guardali sono tantissimi Perfetto ragni, pigments, scheletri ragni Eh, dei, dei, perché ci sono dei pezzi di shulker box che volano, ma che ca... Non lo so Sono miliardi Sono le torri che abbiamo messo anche noi, ma noi non ce l'abbiamo Si incastrano nel suolo Non servono a niente Fanno schifo Si dovrebbero far volare, ma non... Boh Oh No, costa 940 punti potersi upgradeare la necromancer ai livelli Ma che ca... Tommy Defeat is the world where necromancer is proven in the... Ecco, remove a sta torre, va? Gigi, vieni Cosa ha scritto le we in the games? Eh, togli sta torre che hai messo storta qua all'inizio Come faccio? Eh, ci clicchi sopra e... E da qualche parte ci dovrebbe essere di... sello o qualcosa del genere Ok Ok, io ho messo una Zeus tanto, me l'upgrade pure al 2 E poi... Ehm... me l'upgrade... 520 Dimmi quando mandi qualcosa di potente che sto per mandare... Eh, io per ora adesso sto torrando abbastanza potentemente Ok Ok, vabbè, adesso io mando S'ho messo un po' di torri in giro... Eh, adesso mi preparo per mandare... Ok, dimmi quando... Sì, comunque manderò Blaze Ok Però mi serve ancora un po' di XP... Quindi devo mandare ancora un'orgia di ragni... Guarda, ce la stiamo giocando bene, eh? Uh-huh Guarda, non ci hanno ancora toccato... E anche noi abbiamo toccato loro, però... Rip Ok Ho mandato i miei ragni al 3 Qualcuno ha mandato Pigman e te hai mandato gli scheletri Oh mio Dio, questa è un'orcia fortissima Sì Aspetta Chi ha l'aroe? Mi compro una cura, così poi gliela tiro adesso all'inizio Quando passano tutte ste torri Così almeno avranno un bordello di vita Mi si comprano le cura... Ah, eccole Aspetta, eh La tiro... Tipo... Adesso Oh, vita Mened Mened, fortissimo Hanno ancora quasi full vita i tuoi scheletri L'ultrato non ne hanno più L'ultrato... No! La lava, no! Lezzi Chi la messa? No, infatti No, quella fa malissimo Ma ne mando altri Se... Se... Schere! 3 2 1 Io ho mandato ragni Vai Sono andati alla van scoperta I ragnetti che vanno alla van scoperta Sono tondissimi Ci stanno mandando ancora zombie all'uno Ma che... Che problemi hanno? Che zombie Oh, guarda il mio mini Zeus È potentissimo Guarda, l'è tondo È bellissimo Oh, oh, oh Ci fanno male No, ma che ci fanno male? Ma dove? Oh, ma che... No! Ficci de' marmotta Morite! No, gli sta dando vita quella lì Che infane Tanto non ci fanno niente Gli danno Fate schifo Ok, anch'io mi faccio i blaze Mo, eh? Però costano troppo 2.000... 4 blaze costano 2.000 Però mo' io li mando Loro... Oddio, praticamente non hanno roba che spari in aria Dimmi quando glieli mandi, va? Ok Ah, no, non ha soldi Come non è No, io li mando Allora Dimmi quando ne hai abbastanza Così io ne mando di più, dai Ok Manda la roba prima te Così attiri le torri degli arcieri E poi i miei blaze passano inosservati Che tattica assurda, eh? Quanto costano? Madonna, costano 500 l'uno! Loro hanno un miliardo di torri Noi pochissime Ma siamo praticamente allo stesso livello Ci stanno arrivando i blaze in base Ah Vabbè, ma sono 2 Sì, fanno un po' schifo 2 Ah no, adesso vengono minati fortissimo No, non è vero Dobbiamo Poi faccio un altro giretto di messa di torri aeree Per le blaze Allora, sei pronto? No, aspetta ancora un attimo Così ne mando 12 proprio esatti Ok, adesso sono pronto Li mando tra 3 2 1 Via Mandati Ah, aspetta un attimo Ma li mando anch'io Ok Mandali adesso Vabbè, sono tantissimi Pure Pigman perfetto Oh, madonna Qua se non gli arriviamo in base così Mi preparo una hial, eh Anche se mi preparate una hial Sì, aspetta che la devo trovare magari No, no, ci sta arrivando un orcio assurdo di blazing base Mi faccio la inferno Oh no, ma devo adesso pagare pure i soldi Non ne ho, vabbè No, non posso comprarmela Vabbè, faccio la hial Lo tiro sui nostri Eeeh Veloce, veloce Ok Loro hanno messo da inferno Ma io ho tirato la cura Quindi dovrebbero sopravvivere No, i suoi scheletri fanno schifo Ero felice No, questi ce l'aprono, mo, eh Qua, vai Boom No, vieni a minare, vieni a minare, vieni a minare i tizi No No, questi fanno malissimo Poi sono una quantità esagerata Diremo, diremo Eh, vabbè No, 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 guarda Tolgono poco, eh Tolgono poco E blenso fanno sanzo schifo E' ci ristano sanzo schifo E' ci ristano sanzo schifo